Il restyling di Torre Flavia, monumento marittimo di Ladispoli, nei tempi previsti sarà concluso. Il consigliere dell'area metropolitana Federico Ascani ha fatto un sopralluogo al cantiere di cui è stato promotore grazie ad un finanziamento di 300.000 euro ottenuto da Palazzo Valentini. Ascani, che è stato riconfermato sui banchi dell'assise metropolitana, ha riferito che a breve incontrerà associazioni, scuole e cittadini per mettere in atto le migliori sinergie e dare un volto al monumento. Mare Vivo Lazio, che è tra le associazioni più fattive del territorio, si è detto soddisfatto dei lavori. Ci auguriamo che siano conclusi al più presto, ha detto Rita Paone. Il lavoro di Ascani è stato proficuo. Una volta che Torre Flavia sarà fruibile, potremo svolgere molte attività didattiche con cittadini e famiglie sulla salvaguardia della palude e del mare.